Eccolo, eccolo la nostra grande impresa, dagli ottavi QPR 2-0, Manchester City 2-1, 2-1 con l'Arsenal, al ritorno 2-0 perché stiamo perdendo l'annata 1-0, mamma mia, e 2-1 contro lo Swansu, ho sempre segnato due gol, sempre segnato due gol contro delle bestie, delle bestie sacre, ma non mancava qualcuno poi? Ah sì, c'era anche il Liverpool, altro che... è stata una fatica il terzo turno e c'era anche il Liverpool, che cacchio, non me lo mettono perché era di Ottavio, grande, cosa ho, una conferenza stampa per cosa? Perché ho vinto o perché ho un'altra partita importante? Abbiamo vinto perché siamo campioni, spero Cioè, il premio torneo sarebbe solo 277.777 euro? Ai ai ai, cioè, ho vinto la coppa! Ho vinto la coppa, stai scherzando? Ma dammi un milioncino! Non è che ho fatica, lo fai, l'ho vinto, cioè, ma con quale fatica, con quale bucio di ulo? Ma porca, guarda qualsiasi qui, quanto sono stanchi! Per fortuna che ho più di una settimana di riposo Voglio vedere che cosa è questa intervista Grazie mister Eh già, no, non c'ho una settimana di riposo col cazzo Prego, e conferenza stampa? Certo, ma per che cosa devo parlare? Ah, per questo qui? Ma chi se ne frega! Io parlo bene dei nostri che hanno vinto! Dai, dai, Madera, cresci, cresci Che oggi giochi anche, mi so Dopo giocherai anche Un F, hai preso e un A Vabbè, cresci, cresci piccolino, cresci Ok Ritorniamo calmi Dopo una grande vittoria in coppa Dobbiamo pensare al campionato Dobbiamo anche riuscire a Di essere promossi Ultimamente stiamo perdendo troppo Cioè Ne abbiamo perso 12 punti di vantaggio Ne abbiamo persi 6 Oh, il Bisonte sulla fascia sinistra Messo per far riposare il povero Imam Che contro Swans Ha fatto tutto Primo tempo E questo qui è il nuovo Struna Passatela bene No E vabbè Ma il primo tiro da fuori A caso Dopo un rimpallo Devono già segnare Mi state dicendo che dopo che ho vinto la coppa Devo perdere Ma dai Ma cos'è qua? Guarda questo Ma cosa? Come si è buttato il portiere Oh Olè Bella Hai rischiato un po' troppo mettendolo in mezzo così Per fortuna che c'è 3 a un capocannoniere Grande scelta di tempo Beh decisamente non poteva farci nulla Pierluigi Mamma mia che rischi Oh Oh Bello del liscio che è Uscio 3 Uscio 3 Ma tanto che sei arrivato tu Ma me lo spieghi come cazzo avresti fatto Portiere Quelle uscite le fai decenti? O non le fai o le fai decenti? Porca puttana Oh Troppo libero Ottimo l'intervento Recupera il pallone Ecco sti buttano Ecco abbiamo un boi anche lì sopra Vabbè Fine primo tempo Eh Purtroppo i due attaccanti sono completamente morti Dopo la partita contro lo Swans Sì Li ho avuto inuti apposta Perché sapevo che Erano gli unici che potevano fare qualcosa E l'hanno fatta la differenza Il problema è che Hanno giocato 120 minuti E sono Persone che non hanno resistenza Bella Bruna Bella Bruna Col tuo sinistro Guarda chi è ritornato Titolare Dopo l'assist che hai fatto a Shetri Te l'ho concesso Una bella partita titolare E a quanto pare sei ancora più forte degli altri Mamma mia Ah era fuori gioco grazie al cielo Guarda che 1-2 Guarda che scivolata Porca puttana Dai Sing dai No Sbaglia la misura qui Occhio al cross Vedremo se riusciranno a sfruttare Comand Restituisce bene il pallone Mamma mia che passaggio Ah sure Guardalo qua Tutto solo Ci prova Acosti potevi anche provare a tirare Al posto di stuccarla e basta Guardalo dall'altra parte Sì ma che stop fai Acosti ogni volta Vabbè tira Niente Non riesco a fare un cazzo Madera Porca troia no Oh grazie al cielo Abbiamo vinto Dai Anche il campionato Dobbiamo vincere Certo che è una fatica adesso Basta Cioè una partita dopo due giorni Ma mi state facendo lavorare Come non so cosa Guarda qua dopo No scout Oh anche lui Perché queste settimane Ci sarà la finale Un'altra finale Ma Porca puttana Oh Siamo già verso la fine Mamma mia Stiamo per finire anche questo campionato E siamo a nove punti Vediamo Non è salito Nonostante tre A Ho preso anche una F Però inizia A diventare difficile Salire per te A quanto pare Non penso Secondo me Arrivi ancora a 60 70 Facilmente Dai Abbiamo nove punti Vediamo se è arrivare A un 12 Sì Posso saltare un paio di partite E questa serie Dipende molto lunga Ma noi siamo ancora In serie C1 Praticamente E anche siamo in B Guarda come si libera Già Bojang E Scetri Tira da solo Senza che io Gli ho comandi Ha tirato la gannonata Così all'improvviso Guarda Non ho premuto cerchio Lo giuro Ma bisogna annusare La febconosità dell'azione Cos'è sta Un rimpallo Ma va caga Che tiro di merda Era quello Ma per favore Se ti facevi segnare da quello Ti potevo licenziare Uh Non so che far Mi appasserò a Bojang Che si gira E tira una cannonata No Amoscio e tri C'è sempre lui E ovunque Kotal dai Che oggi Ti ho fatto giocare Al posto di tenerti In tribuna Neanche in panchina Perché ho passato Così male a Ferris Non lo so Mamma mia Guarda Sing Dai Bojang Stavolta sei da solo Bojang 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 Stavolta è un tiro che lascia decisamente a desiderare In realtà Ha fatto entrare anche Morgan Ha tolto i due attaccanti Mitici là davanti Anche Shetri Poverino Ogni tanto Il riposo Se lo merito Interrompono bene l'azione Allentando la pressione Sulla difesa Perché qui Volevo ridarla a Morgan Ecco Ferris Mamma mia quanto è bravo negli angoli E secondo me La scelta è giusta Al momento giusto Eccolo Sing Sing Fatti subire pallo Morgan Finalmente sei tornato anche tu E siamo al 2-0 Dai cacchio Stava diventando una fattura Fatica a segnare Adesso mi sento un po' più sicuro Occhio Minchia ho detto che mi posso rilassare Ma non così tanto Vabbè Va bene Appena ho segnato il 2 Questi mi dovevano rompere i coglioni Ma stiamo ancora vincendo 1-0 C'è di un gol Stavamo vincendo 1-0 Per tutto il tempo E eravate calmi Adesso no? Fate un paio il passaggio Andiamo con calma Con calma Grande pallone verticale Con calma E che cacchio C'è bisogno di preoccuparsi Fate un paio di passaggi giusti E arriviamo al gol Vedi? Così Dai Vinciamo anche il campionato Vediamo di avanzare un po' tanto Così magari faccio giocare anche un paio di panchinari Per farli crescere Così magari faccio giocare anche un paio di passaggi giusti Così magari faccio giocare anche un paio di passaggi giusti Così magari faccio giocare anche un paio di passaggi giusti Così magari faccio giocare anche un paio di passaggi giusti Così magari faccio giocare anche un paio di passaggi giusti Grazie a tutti.